Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo lieti di proporvi in vendita l'antica masseria Carrara, una affascinante proprietà risalente alla metà del 1700, situata nella campagna di Bari. Questa storica masseria, con una superficie di 320 metri quadri e un vero gioiello architettonico immerso in un contesto naturale unico e suggestivo. La proprietà si estende su un terreno di 23.000 metri quadri, arricchito da una vecchia stella di 120 metri quadri e una chiesetta consacrata a San Michele del 1800 di 50 metri quadri. La masseria si sviluppa su due livelli, ognuno dei quali composto da sei vani. Al piano terra un ampio salone con grandi finestre illumina lo spazio, accompagnato da cinque locali aggiuntivi e due bagni. Salendo al secondo piano troviamo quattro camere da letto e un salone con un grande balcone, da cui si accede direttamente al cortile di 200 metri quadri, circondato da un muro di cinta e un giardino interno. Il parco storico che circonda la masseria è composto da olivetti secolari, un ampio frutteto di fichi e mandorli e un viale di cipressi. Arbusti e cespulli tipici della macchia mediterranea, come il rosmarino e origano, completano questo splendido scenario naturale. La posizione della masseria è strategica, con la vicinanza all'aeroporto di Bari, all'ospedale San Paolo e alla stazione della linea metropolitana, rendendo la proprietà facilmente accessibile. Potenziali destinazioni d'uso per questa storica masseria includono laboratori uffici, centro sanitario e benessere, centro culturale, spazio espositivo, attività ludico-ricreative, discoteca, laboratorio musicale, laboratori artigianali, ristoranti e dimora per matrimoni. Questa è un'opportunità unica per chi desidera investire in una proprietà di grande valore storico e culturale, con potenzialità di sviluppo e trasformazioni eccezionali. Non perdete l'occasione di scoprire questa magnifica masseria, contattateci per ulteriori informazioni e per organizzare una visita. Ciao, alla prossima!